Noi abbiamo aderito a questa giornata promossa dalla Federazione Internazionale che in tutto il mondo svolgeranno vari eventi in varie città del mondo e noi aderiamo a questa iniziativa proprio per promuovere e divulgare questo nostro sport, questo nostro amato sport. Chi organizza questa manifestazione? Diciamo che è promossa a livello internazionale dalla ITTF che è la Federazione Internazionale e ha lo scopo appunto di promuovere e lanciare il ping pong per tutti, proprio perché appunto il tennis tavolo si presta moltissimo, il ping pong si presta moltissimo ad essere praticato un po' da tutti a livello amatoriale, quindi da tutte le età, bambini, adulti, giovani, meno giovani, anziani eccetera, possono così tranquillamente venire in questa giornata. È una giornata che noi organizziamo in Piazza Mazzini e provare a vedere cosa succede. Quindi non c'è bisogno di iscrizione? No, 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 assolutamente no, è una giornata promozionale dove in mezzo alla gente noi proponiamo delle prove, dei piccoli assaggi di pallina e quindi tutti possono cimentarsi. Tennis tavolo per tutti perché non ci vogliono competenze particolari o una bravura proprio specifica? No, no, come ripetevo prima a livello amatoriale è per tutti proprio perché la federazione internazionale vuole accogliere nel suo bacino il maggior numero possibile di partecipanti. La giornata è rivolta a tutti, anche con finalità di accoglienza, quindi immigrati, rifugiati, persone con difficoltà eccetera, possono attorno a un tavolo, così diciamo l'idea attorno a un tavolo, interagire e quindi integrarsi con la popolazione nostra chiavarese e comunque partecipare a un qualcosa che riesca a integrarli nella collettività.